Sono Maxi Renna, uschi per l'una rossa del circuito Xtreme Forti, siamo qui a Singapore e finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo e ci eravamo prefissati, quello di cercare di arrivare nei primi tre nella classifica generale, in realtà siamo riusciti a vincerlo quindi siamo molto contenti oggi e stasera credo che festeggeremo un po'. Credo che la cosa più difficile fosse molto il tempo di reazione nelle decisioni e anche nelle manovre, è ovvio che qua questo tipo di regate ma con i catamarani in generale richiede una decisione molto più immediata rispetto al monoscafo perché tutto accade molto più velocemente, però grazie a Paul Campbell James e Alistair abbiamo cercato di bruciare un po' le tappe e lo abbiamo dimostrato in Cina alla seconda tappa arrivando sul gradino più alto del podio. Poi abbiamo avuto un po' di alti e bassi però l'obiettivo era quello di cercare di arrivare sempre nei primi cinque ogni evento e ci ha permesso di arrivare qui a Singapore con un punto di vantaggio sul secondo. Io ritengo che questo sia uno dei circuiti di più alto livello a cui abbia mai partecipato e sicuramente, ma parlando anche con gli altri team, con il team New Zealand e Artemis, entrambi hanno dichiarato più volte che questo è un circuito molto prepedeutico alla Coppa e al circuito degli AC45 e anche noi stiamo valutando ancora la possibilità e quasi sicuramente parteciperanno il prossimo anno al circuito degli stream.